Riunione interlocutoria tra il presidente della regione toscana Eugenio Gianni e tutti i sindaci della provincia di Arezzo. Una riunione dovuta al fatto che appunto questo territorio ha dei numeri al limite della zona rossa. Una decisione che verrà presa entro questo venerdì, ma appunto il fatto di diventare zona rossa o meno divide l'opinione non solo dei primi cittadini. Sono 12 su 39 i comuni della provincia di Arezzo, sopra la soglia dei 200 contagi ogni 100.000 abitanti. Tra questi c'è il capoluogo Arezzo che supera anche la soglia dei 300. Noi in questo momento dal presidente della regione ai sindaci stiamo cercando di fare fronte comune nella consapevolezza che noi conteniamo un problema, non lo risolviamo così. Quindi la risoluzione è il vaccino e il vaccino deve arrivare in tempi brevi. Allora sarebbe anche più comprensibile, come diceva il presidente Draghi, una chiusura veramente di 15 giorni, però vaccinami. Perché se mi chiudi 15 giorni e il vaccino non cammina, non corre, non è veloce, ho fatto una misura di contenimento, che va bene anche quella. Perché primo un mio vivere, però non ho risolto un problema. I sindaci hanno espresso tutti la volontà di fare una valutazione per distretti, quindi non per provincia, ma di guardare in maniera oggettiva i numeri nelle varie vallate, perché come ho detto la situazione è dismogenea, e cercare il più possibile di mantenere le scuole aperte. Perché ci rendiamo conto di quanto da un lato sia problematico per le famiglie avere i figli a casa, quanto sia un disagio psicologico per i ragazzi, oltre che legato all'apprendimento, ma soprattutto perché nel momento in cui i bambini stanno a casa stanno con i nonni, quindi con la fascia popolazione poi più a rischio. Tra l'altro i contagi all'interno delle scuole non sono assolutamente allarmanti, non ci sono focolai, quindi paradossalmente è il luogo più sicuro in cui i nostri figli passano le ore della giornata. E dai genitori arriva una voce unanime, la DAD non può essere la soluzione. Lei è un medico anestesista, ma è anche mamma di tre figli. La sua scrivania oggi è un po' invasa dai compiti, dai libri di scuola di uno dei suoi figli. È una giornata tipo durante la DAD? In accordo con il mio capo, il mio datore di lavoro, mettendola la bambina in situazione di non rischio, perché questa è una parte della casa di cura dove ci sono gli uffici amministrativi e poi io ho un ufficio da sola, quindi potendomi permettere tutto questo la porto al lavoro con me e la seguo tra una riunione mia ed un'altra nella sua DAD. Benedetta ha scritto anche una lettera al presidente Mattarella, condivisa da tanti genitori. Credo nelle istituzioni, credo nel Presidente della Repubblica e credo che dopo un anno dalla chiusura delle scuole per Covid si possa agire diversamente rispetto al chiudere e stop. Perché possiamo fare degli investimenti, possiamo fare delle valutazioni diverse nelle varie scuole? Non lo so, ma qualcosa dobbiamo dare come risposta, soprattutto ai ragazzi, ai ragazzi grandi, i ragazzi grandi che ho a casa, che non sono un problema da un punto di vista di gestione, perché sono davanti al computer da soli, comunque noi passiamo il messaggio che non è prioritario alla loro istruzione, perché comunque la DAD, oltre che essere distanza, è didattica sicuramente minore, e questo lo dicono anche i docenti, con tutti gli sforzi che stanno facendo rispetto a quella che è una didattica in presenza. La scuola non è solo didattica, questo assolutamente, e la didattica non passa solo da quello che è scritto in un libro, ma la didattica passa anche dal contatto sociale tra le persone, tra il docente, avere i ragazzi in classe, eccetera.